Ragazzi, le comunicazioni importanti qui su Hip Hop TV spettano sempre a me e questa è veramente importante per una serie di motivi. Il primo motivo, da gennaio 2017 non saremo più su Sky, quindi vi devo dire dove ci vedremo e ci vedremo su livestream, ma questo già lo sapete. Ci vedremo soprattutto su Facebook Live, quindi sulla pagina Facebook di Hip Hop TV per una serie di programmi che faremo insieme. Andiamo nella direzione dell'interazione, quella che voi stessi ci avete suggerito attraverso delle dirette su Facebook Live. Secondo motivo che rende la comunicazione molto interessante è che io voglio e devo ringraziarvi a nome di Hip Hop TV per tutto quello che avete fatto per noi, per averci seguito fino a qui e per aver reso Hip Hop TV quello che è. Da qui andiamo avanti con tante cose da fare insieme, da gennaio ci vediamo su Facebook Live, pagina Facebook di Hip Hop TV e su Livestream. Ciao!